Queste sono le opere che sono state prodotte da numerosi artisti, 14 che sono arrivati da diverse parti dell'isola e adesso si terrà la premiazione. Il quadro che ha vinto è il numero 6. Il primo quadro ha sicuramente avuto un impatto più dinamico a livello visivo che ha colpito noi giurati e abbiamo in qualche modo voluto omaggiarlo proprio per la diversità espressiva.